Musica Benvenuti ad una nuova puntata di Radici del Futuro 2.0 Il nuovo e unico laboratorio rurale televisivo fortemente evoluto dalla regione toscana in collaborazione con il CESBOT Oggi ci troviamo a Sant'Ippolito di Galciana nella periferia di Prato dove andiamo a conoscere una realtà splendida Piena di anima, di colore, di energia e quella della polisportiva Aurora e in particolare del progetto Animal House Siamo qui in compagnia di Federica che ci accoglie Ciao Federica Buongiorno Cara, grazie di farci così da padrona di casa e di raccontarci questa realtà molto bella Noi dobbiamo dirlo, è un po' di tempo che proviamo a venire a trovarvi perché il tempo è stato un po' così e così Intanto dobbiamo ringraziare anche tutti i volontari, i pratesi che hanno dato una mano proprio in questi giorni Per pulire questa bellissima struttura e darci anche modo di venirvi a conoscere e a raccontarci Questa è un'associazione che nasce nel 2008 grazie a un progetto CESBOT Nasce inizialmente come pensionato per animali di piccola affezione Parliamo di cani, di gatti, conigli, qualche tartaruga è successo Prendiamo un po' tutto Nasce appunto come pensionato Dopodiché grazie ai contributi, all'aiuto della regione toscana e del comune di Prato Portiamo avanti diversi progetti Di cui l'agricoltura sociale Che per noi è un po' un fiore all'occhiello, chiamiamolo così Ecco allora ti chiederei proprio questo Un po' la storia l'abbiamo detta Ma parlando appunto del presente e soprattutto del futuro di una realtà così bella Se ci puoi parlare appunto dei vari progetti che avete in questo momento in campo E anche delle collaborazioni perché so che questa realtà deve molto proprio alla sinergia Una rete, questa struttura appunto è comunale Ma ci sono tante associazioni che gravitano intorno a questo cuore pulsante Dici benissimo, infatti Animal House non è un'entità in se stessa sola Ma intorno a noi gravitano diverse associazioni La Polisportiva Aurora in primis, la Diapsigra Sono associazioni che si collabora tanto con il Dipartimento di Salute Mentale Quindi noi soprattutto questo, l'Asla di Prato Dove grazie anche a loro siamo sempre riusciti a fare questi progetti per i ragazzi Soprattutto con disturbi psichici Scusate, oltre il teniamo anche molto a dire che si collabora con la Dogaia Quindi il carcere di Prato E abbiamo spesso appunto detenuti che vengono ad aiutarci come volontari presso Animal House I progetti diciamo fondamentali sono Che sono quelli in atto attualmente Sono il pensionato che questo apre sempre da marzo fino a fine ottobre, primi novembre Sempre dobbiamo stare attenti al tempo Siamo stati alluvionati Infatti mi spiace che non si può vedere bene quello che è il frutto e il lavoro dei nostri ragazzi Perché qui dalla primavera fino a ottobre abbiamo degli orti meravigliosi E quindi i progetti sono l'agricoltura sociale, il pensionato per animali Abbiamo fatto una piccola fattoria di animali Che magari appunto dopo si andrà a visitare insieme Perché si cerca anche di coinvolgere molto le scuole Dove abbiamo appunto la nostra guru che è la Romina E praticamente si cerca appunto di portare anche le scuole E far conoscere a questi ragazzi un po' la natura rispetto ambientale Quindi vengono a fare i piccoli contadini, a vedere gli animali eccetera Oltre che stare insieme naturalmente che i valori della natura Noi lo ricordiamo proprio tra la mission di Radici del Futuro E far capire tutti i valori che gravitano intorno alla natura E anche al sociale perché ricordiamo l'agricoltura sociale Proprio il taglio specifico di questa seconda stagione Quindi lo stare insieme anche con persone più svantaggiate Ma che attraverso appunto anche l'agricoltura Il contatto anche con gli animali Ecco con il ciclo proprio naturale Possono avere restituito tanto di emozioni Anche di autonomia perché vedono i frutti del loro lavoro Infatti parte del nostro progetto Proprio quando nel 2012 abbiamo fatto Adotto un agricoltore Si vinse questo bando regionale L'inserimento di questi ragazzi Per creare a loro un'autonomia Perché da Animal House Nasce, vengono qui Ci insegniamo perché qui non c'è nessun maestro Però il discorso è che noi vorremmo Ci piacerebbe che loro ad un certo punto diventino autonomi Nell'inserirli anche in un altro mondo Sempre magari nell'agricoltura Cioè riuscire a mettere insieme l'agricoltura sociale Con invece quello che è l'agricoltura Perché c'è una lieve differenza Chiaramente l'azienda agricola Da quello che è l'agricoltura sociale Il nostro scopo sarebbe appunto questo Riuscire che un giorno, un domani Spero a breve termine I ragazzi possano avere un loro lavoro Basato su quello che hanno imparato Anche ad Animal House Diciamo che sono un po' queste Le nostre piccole ambizioni che abbiamo E chiediamo infatti sempre Questa grande collaborazione che abbiamo Dalla regione toscana E dal comune di Prato Che anche grazie a loro Che noi abbiamo questo ambiente Perché questo è tutto territorio del comune di Prato La colonica che vedete alle nostre spalle È infatti finita adesso di ristrutturare Ripeto sempre grazie ai fondi loro Bene, allora ringraziamo tantissimo Federica Adesso faremo un giro naturalmente Per andare a conoscere più da vicino queste realtà Anche tanti ragazzi che ci lavorano E che hanno anche tanta voglia di raccontarsi Questo ci fa piacere Un'ultima domanda Senti, dimmi Tu hai questo accento fantastico Un po' lombardo, Milano Ma sta Toscana ti ha conquistato? Devo dire di sì Io sono in Toscana da sei anni Sono da Animal House da cinque Devo dire che è riuscita anche in parte A farmi dimenticare la mia bella Milano Viva la Toscana Volevo semplicemente dire una cosa fondamentale Che i nostri prodotti dell'orto A parte in questi mesi Che ripeto siamo stati alluvionati Quindi abbiamo perso la parte di tutto il nostro lavoro Siamo tutti fine settimana Sia su Piazza Due Settimane A Piazza del Mercato Nuovo E l'altro in Piazzale Nenni Con i prodotti che facciamo noi Abbiamo anche l'apicoltura Quindi abbiamo anche il miele Dopodietro magari riusciamo a vedere insieme le armi Questi sono acquistabili da chiunque? Sono acquistabili da chiunque E faccio un po' di pubblicità Si può diventare soci di Animal House Con un piccolo contributo di 10 euro all'anno Dove poi avrete diritto del 10% di sconto sui nostri prodotti Io esco di scena Grazie mille Un'ottima padrona di casa Allora iniziamo il nostro tour A conoscere tutta la realtà di Animal House E della Polisportiva Aurora Grazie Grazie a voi Ed eccoci ora in compagnia di Luciano Che è educatore professionale dell'Asle Che si occupa di questi ragazzi Che abbiamo conosciuto durante il nostro percorso all'interno di Animal House Allora volevo chiedere a Luciano Un po' di questo progetto Soprattutto dal suo punto di vista professionale ed umano I benefici che hanno questi ragazzi Nell'entrare a contatto con la natura Ma sì Noi abbiamo cominciato anni fa Insomma a interessarsi di questa area Insomma che era un'area Che era stata lasciata Insomma dal comune Un po' così Senza cura E quindi abbiamo pensato Lo pensavamo anche Il fatto che Il poter lavorare con i soggetti Con disagio psichico All'aria aperta È sicuramente uno spazio interessante Lavorare con l'agricoltura in particolare Secondo me Dà il senso compiuto della cosa Cioè nel senso da Vedere la terra nuda Fino ad arrivare ad avere il prodotto Credo che per tutti sia una soddisfazione E avere il senso compiuto Perché nella psicosi normalmente c'è la frammentazione Quindi la frammentazione del personale La frammentazione del pensiero Poter riacquistare appunto Cioè tutte queste motivazioni Apparentemente sembra poco Cioè ma invece è tanto L'altra cosa che credo abbia funzionato È il fatto che qui si lavora in gruppo Insomma lavorare in gruppo È ricreare la relazione Ricreare amicizia Ricreare condivisione Nella fatica Perché la fatica è l'altro elemento Che nella società moderna ci siamo dimenticati Invece la fatica è andare a casa E sentire veramente la sensazione Che te hai prodotto qualcosa sulla tua fisicità Quindi questa cosa a noi ci sta convincendo E ci ha convinto Dal punto di vista proprio mio, professionale E su questo abbiamo investito tantissimi progetti Tra i quali due livelli Uno che è quello per le persone Diciamo di arrivo Che hanno difficoltà Difficoltà serie E quindi abbiamo un po' strutturato Il progetto di ortoterapia Quindi con l'accompagnamento verso Invece altri che hanno competenze Hanno competenze Nel senso sia sugli animali Che sia minimamente nella verdura O nella potatura degli alberi Che sono state nel tempo anche ricompensate Non solo dal progetto Ma anche da un'assunzione Quindi da un beneficio importante Di riacquisizione del valore Del lavoro Con i soldi Il progetto futuro Dovrebbe essere quello di implementare Attraverso appunto La casa Che Bursalense Sicuramente avete in parte già visto La casa che dovrà alloggiare persone Che vengono dal disagio psichico E che non hanno casa Perché normalmente Quando siamo assaliti Da un disagio psichico Si perdono tante cose Non solo la proprietà Di avere la forza Ma anche il lavoro Anche la casa Quindi sono i tre tasselli Che in un'attività di agricoltura Sembra banale o impossibile Ma forse ce la possiamo fare Quindi noi ci spingiamo tantissimo In questo progetto L'ASL Di quale io ne faccio parte E sono uno degli attuatori Di progetti associativi E riabilitativi Perché non dimentichiamoci Che questo è condotto Da un'associazione Non è condotto direttamente Dall'ASL Noi collaboriamo Io specialmente Nel beneficio poi Dei pazienti Allora grazie mille Per questa testimonianza E per il suo lavoro Grazie di cuore Grazie a voi Non siamo più A Sant'Ippolito di Galciana Ma bensì Nel centro storico di Prato Questa è Piazza del Comune Io sto andando a intervistare Due persone molto importanti Che hanno reso possibile Il grande progetto Della Polisportiva Aurora E di Animal House Seguitemi Siamo in compagnia Del dottore Armellini Proprio dell'ASL di Prato Al quale chiedo E la saluto Naturalmente La ringrazio Della disponibilità E le chiedo Se ci può fare un po' Un sunto E una panoramica Su questi progetti Attivati Dalla Polisportiva Aurora E da Animal House E come contribuiscono Al benessere Dei soggetti Che appunto Suffruiscono Di questi servizi Sia come professionista Però anche Come A volte Anche come volontario Come amico Della Polisportiva Ho partecipato E ho sostenuto I progetti Che loro hanno proposto E in particolare Questo di Animal House Diciamo E' uno di quelli Che è cresciuto Maggiormente Perché Perché sostenere Questi progetti Perché Quello Che noi Possiamo dare Sono Piccole cose Diciamo Nella vita Una persona Che ha Un problema Di salute mentale Importante È molto È molto più Rilevante Anche se Il nostro contributo Può essere indispensabile Però Il resto La maggior parte Del tempo Una persona Deve contare Su una rete Di relazioni Sulla possibilità Di sentirsi Veramente E efficace Di poter Essere Qualcuno Che Viene Considerato Per il proprio ruolo Nella rete Della società Quindi Tutto quello Che stanno facendo I volontari Della polisportiva Va in questa direzione Cioè Creare Una rete Di relazioni Dare opportunità Per essere utili Per essere efficaci Per fare un lavoro Ognuno Nelle proprie possibilità Quindi In questo senso Appunto Il Il progetto Della Fattoria didattica Dell'agricoltura sociale E Qui Devo Cogliere l'occasione Per sottolineare L'importanza Dei progetti D'agricoltura sociale Che La Regione In particolare Appunto L'assessore Salvadori Ha promosso E Che qui a Prato Ha trovato Una Risposta Molto Interessata Noi ci interessa Appunto Proprio portare Anche Questa esperienza Degli orti Anche All'interno Della città Non soltanto A Pantanelle Dove Magari a volte È un po' difficile Riuscire anche A mantenere La continuità Della continuità Assessore Quanto è importante Creare queste sinergie Fra istituzioni Associazioni Della realtà Del volontariato Quando poi Al cuore C'è La salute Il benessere Delle persone A contatto Con i valori Della natura Io credo Sia un fatto Fondamentale Essenziale Noi abbiamo In città Un patrimonio enorme Quello del volontariato E questa parte Del volontariato In particolare Ha un'attività Che è veramente Meritoria Perché sta vicino Agli ultimi Vicino a chi Ha bisogno Di reinserirsi Perché ci sono Anche persone Che hanno avuto Purtroppo L'esperienza Del carcere E quindi È sinceramente Un qualche cosa Che è un valore Aggiunto Credo Poi alla fine La civiltà Di una Di una comunità Si giudica Anche da queste cose E i risultati Sono buoni Gli investimenti Che noi abbiamo fatto E abbiamo fatti Convinti Di poter fare Qualcosa Di buono Appunto Per la nostra città Credo che Si debba continuare Su questa strada Perché i risultati Sono veramente Eccellenti E quindi Meritano Questo investimento E questa attenzione Ecco Importante Come diceva Giustamente Anche una delle nostre Testimonianze La base C'era anche Proprio il lavoro E l'impegno Di questi ragazzi Che poi vanno A creare dei prodotti E che poi entrano Nel circuito Poi del mercato Del mercato Cittadini Quindi anche Prodotti di filiera corta Di qualità Un'altra attenzione Importante Che ha a cuore Anche l'amministrazione Questo modo di fare Che in qualche modo Non soltanto Dà la possibilità Di ritrovare Un pezzo di società E quindi rapportarsi Nuovamente con il mondo Ma anche quello Di sentirsi utili Sentirsi utili Sentirsi attivi Sentire che Il lavoro Che loro fanno Porta reddito E quindi Crea anche Un modo nuovo Di rapportarsi E quindi Fatto positivo Sicuramente Bene Io ora Devo tornare Nuovamente A Sant'Ippolito Di Galciana Per andare A conoscere Altri amici E salutare Tutte le persone Che collaborano Ad Animal House Nel frattempo Che io e la troupe Ci spostiamo Vi lascio però Al contributo Di Socialmente in Campo Dove ci sarà L'onorevole Luca Sani Della Commissione Agricoltura Della Camera Di Deputati Come valuta Il lavoro Che si sta facendo In Toscana In ambito Di agricoltura Sociale E come sta Lavorando La stessa Commissione Per sviluppare Questo tipo Di progetti La Toscana È una regione All'avanguardia Su questo tema È uno degli aspetti Che valorizza La multifunzionalità Dell'azienda Agricola E soprattutto Per le caratteristiche Che ha L'agricoltura Nella nostra Regione Può essere Un'attività Che aggiunge Reddito Al lavoro Delle aziende Agricole E dà L'opportunità Come sappiamo A soggetti Svantaggiati Di essere Inseriti In un contesto Lavorativo Importante Da questo punto Di vista La Commissione Agricoltura Della Camera Sta esaminando Una proposta Di legge Siamo Diciamo A un buon punto Perché da quattro proposte Siamo arrivati A un testo Unificato Presentato La scorsa settimana In commissione Che ha L'obiettivo Di coordinare Nell'ambito Nazionale Le politiche Relative Appunto L'agricoltura Sociale A dare un po' Un inquadramento Generale Alle regioni Nel rispetto Delle diverse Competenze Siamo come dicevo In una fase Avanzata All'interno All'interno Della legge Individuiamo Appunto Gli obiettivi I soggetti L'istituzione Di un osservatorio Nazionale Sull'agricoltura Sociale In modo da dare Uno strumento In più Alle regioni Sono fiduciosi Rispetto A una sua Rapida Approvazione Per quanto riguarda I contenuti Diciamo Del progetto Dunque I contenuti Del progetto Di legge Sono quelli Relativi Appunto A definire In una legge Quadro Che cos'è L'agricoltura Sociale Ai soggetti A cui Si rivolge Sia Come dire Alle imprese Che possono svolgere Questo tipo Di attività E a chi si rivolge Come soggetti Svantaggiati In più Prevediamo La possibilità All'interno Della proposta Di legge Di Dar vita A delle organizzazioni Di prodotto Uno strumento Importante Previsto Anche Dalla Dalla PAC Che consente Alle Imprese Agricole Di fare Sistema Ecco Oltre a Le organizzazioni Di prodotto Che Conosciamo Che sono Quelle appunto Sul prodotto All'interno Della legge È prevista La possibilità Per le imprese Che operano In campo Di agricoltura Sociale Di aggregarsi E insomma Fare massa critica Rispetto Al mercato In più Prevediamo Alcune questioni Che riguardano Il rapporto Con la pubblica Amministrazione Cioè Nelle gare Di appalto Delle Mense Degli enti Locali Delle Sul piano Istituzionale Di riservare Una quota La possibilità Di riservare Una quota Anche Le produzioni Che arrivano Dall'agricoltura Sociale Quindi un'attenzione Un'attenzione Particolare Perché appunto Pensiamo Che possa essere Una voce importante Rispetto alla Multifunzionalità Dell'impresa Allora Andiamo a scoprire L'ortoterapia Qui di Animal House Della Polisportiva Aurora Abbiamo il piacere Di avere con noi Cristiano Grazie Come stai intanto? Ma per ora bene Tutto così Tutto a posto Senti Cristiano Vi racconti Che cosa fai Qui nell'orto? Ma qui Sì veramente Perché si semina Tutti gli ortaggi Da qui fino a lì Cipolle Patate Fagioli Ecco Quindi tu devi Proprio Metti i semini Poi aspetti Chiaramente Che la natura Faccia il suo corso E viene fuori Proprio L'ortaggio La verdura Sì veramente Quando nascono Quando vanno Annaffiati E curati Dalle morte Acqua E prima di nascere Quando crescano Diventano Grandi E più che curati Da quando si Poi si formano I pidocchi Anche Ecco Quindi bisogna avere Tanto affetto Tanto cura A te piace Lavorare nell'orto? Ma sì veramente Perché Mi sono stato orato qui Mi ha detto Luciano Giusti Della Polisporti Aurora Mi ha messo qui Perché Perché è meglio Perché Mi trovo molto meglio Così E Dare anche la mangiare Agli animali Agli asini Alle capre A maiali Ma ti piace Sì Ma certo Veramente Mi posso Adatto Giusto per me Molto più buono Molto più Insufficiente Senti ma hai fatto Anche qualche amicizia Ci sono altri ragazzi Che lavorano con te Ci sono degli amici Magari che hai trovato qui Sì ho trovato Gianfranco Mimmo Mauro Etienne Gianluca Siete tanti Ma sì veramente Proprio tantissimi Sì veramente Una bella soddisfazione buona E questa proprio Eccoci di nuovo Nell'orto Dove incontriamo Etienne Ciao Etienne Piacere Senti ci racconti Da quanto tempo sei qui So che sei qui Da diversi anni Quindi hai visto un po' Crescere tutta la realtà Sono sei o sette anni Sono qui Ogni anno diverso è stato Ecco tu in particolare Di che cosa ti occupi Per Animal House E per questa struttura Eh mi occupo Del lavoro manuale Soprattutto Di arare il terreno Di preparare le piantine Di fare queste cose Ecco ti piace Ti dà soddisfazione Cosa ti trasmette Sì È bello Può essere all'aria aperta Si respira Poi con gli amici C'è compagnia Ecco quindi c'è questa doppia realtà Da un lato la natura Che ti trasmette naturalmente Tanta positività Anche perché vedi il frutto Del tuo lavoro Da soddisfazione E dall'altro Gli altri ragazzi Quindi direi un doppio beneficio Sì Bene Allora senti Adesso andiamo a conoscere Magari qualche altro tuo amico Che sta lavorando nell'orto Che cosa verrà qui in primavera State già piantando qualcosa Perché la stagione è andata così così Vero? Abbiamo messo le fave E tra un po' cominciamo Fagioli Piselli Allora vi torniamo a trovare Con la bella stagione Ci interrompiamo per pochi minuti Con la nostra rubrica Agricoltura in rete Con l'editoriale Della professoressa Roberta Moruzzo Ricercatrice All'Università di Pisa A fra poco Oggi l'agricoltura sociale In Toscana È molto diversificata Ci sono pratiche Già codificate Ci sono esempi sporadici Di iniziative Appunto sporadiche Sul territorio Ci sono reti Di soggetti Che lavorano insieme Per creare appunto Queste pratiche Quindi diventa più che mai Fondamentale e necessario Creare dei modelli Di agricoltura sociale Che possono essere condivisi Da tutti i diversi portatori Di interesse E in questo Lavoro Diciamo L'Università di Pisa Insieme ad altri Stakeholders Del territorio Stanno lavorando Per cercare Di definire Di definire delle tipologie Specifiche Di agricoltura sociale Stanno cercando Anche di capire Come i diversi soggetti Che attualmente Sono coinvolti In queste pratiche Soggetti Direttamente coinvolti Ma anche Soggetti di supporto Alle pratiche stesse Possano lavorare insieme Attraverso quali Procedure di lavoro Attraverso quali Modalità Di diciamo Di interazione Tutto questo lavoro Sta portando Quindi A delle ipotesi Di intervento Sta portando A codificare Schede Manuali Procedure Che chiaramente Dovranno essere Discussi Non solo Dai soggetti istituzionali Dai soggetti pubblici Ma anche Da tutti coloro Che attualmente Noi vediamo Coinvolti A gestire Pratiche di agricoltura sociale Dai servizi Che molto spesso Inviano gli utenti Dalle stesse Aziende agricole Che collaborano Attivamente Con associazioni Con cooperative Sociali E che Gestiscono Gli stessi Utenti Quindi Tutti questi Soggetti E soprattutto Il mondo Della rappresentanza Di questi soggetti Diventano Importanti Per condividere Insieme Un percorso E per Definire Come si diceva Questi modelli Di lavoro Da implementare Sul territorio Regionale Il territorio Regionale È sicuramente Un territorio Molto attivo Già dal 2002 È avvenuta Una prima Diagnosi Di quelle Che sono Le realtà Che Probabilmente A quei tempi In maniera Più sporadica Meno Formalizzata Cominciavano A lavorare Sul tema Dell'agricoltura Sociale Oggi Esiste Una legge E a supporto Diciamo Di questa legge Diventa Importante Definire Un manuale Che faccia Capire Che a livello Regionale C'è una Volontà Di investire Sul tema Dell'agricoltura Sociale C'è probabilmente La volontà Anche di Costituire Un tavolo Regionale Di discussione Che veda Coinvolti I diversi Soggetti Da un lato Pubblici Ma anche Dal lato Privati Là dove In quei territori Dove non esistono Delle reti Già Presenti Reti O associazioni Di rappresentanza Quindi tutti Questi Diciamo Soggetti Possono Contribuire A lavorare All'interno Di un tavolo Quindi ci dovrà Essere Un manuale Che Raccolga Diciamo I risultati Di questo Tavolo Cosa Verrà Deciso A livello Diciamo Regionale Locale E in aggiunta A questo Anche Delle schede Che eventualmente Arrivino A formalizzare E a codificare I servizi Diversi Di agricoltura Sociale Ci potrebbero Essere Delle procedure Per definire Magari Un sistema Di monitoraggio E valutazione Comune Per tutte le pratiche Di agricoltura sociale E anche Una procedura Per andare A capire Come gestire Quella Database Regionale Che attualmente È presente È stato creato Sempre con un progetto Regionale Un archivio Unico Delle esperienze Di agricoltura sociale In regione E quindi diventerà E quindi diventerà importante Capire Come nel futuro Aziende Che attualmente Non sono presenti In questo database Ma che magari Intendono Attivarsi Con dei progetti Possano essere Inserite Nuovamente Nell'archivio E come Chiaramente Aggiornare La presenza Di quelle Che attualmente Già ci sono E dopo l'orto Andiamo a conoscere La fattoria Di Animal House Siamo qui in compagnia Di Antonello e Lisetta Che vedete passare Sono gli asinelli Ma soprattutto Della persona Che si prende cura di loro Che è Gianfranco Ciao Ciao Allora Gianfranco Raccontaci un po' Della tua attività Qui a Animal House La mattina Favo gli animali Metto l'acqua pulita E a tutti gli animali Dovido a mangiare Gli asini Mangiano Il fieno L'avena E un po' di pane Poi ci sono le caprette Che conosceremo Si mangiano L'erba fresca Il fieno Senti Ma tu a che ora Arrivi la mattina Raccontaci un po' La giornata Dalle otto la mattina Fino a mezzogiorno Ecco E ti piace Questo contatto Con gli animali Si si Sono quattro anni Sono cinque anni Sono qui Che cosa ti trasmettono Serenità Energia No io ci sto bene Con gli animali Mi sento a miagio Mi sento tranquillo Ci lavoro bene Poi l'animale Come dire È fedele Trasmette tutta una serie Di messaggi Molto positivi Ecco infatti L'affetto Tante volte Magari sono gli uomini Un po' più Difficili Da averci a che fare Senti Quindi ecco Questi sono asinelli Poi raccontaci un po' Gli altri animali Della fattoria Sono le capre I caproni Dei coniglietti Abbiamo visto Dei coniglietti Sì Ecco C'è un animale Che hai più Per cui hai più affetto Magari che hai visto Crescere Un po' per tutti Un po' per tutti Senti ma è capitata anche qualche nascita Hai seguito anche qualche cucciolo No sono sempre questi Sono questi Nascita e cuccioli no Chissà magari arriverà anche un cucciolotto Nel frattempo Lui chi è? È Antonello o Lisetta? Con questa bella Lisetta e Antonello Ah quindi la femmina Un saluto da Antonello Lisetta e me Alla prossima puntata Di Radice del futuro 2.0 Ciao Ciao